E' un'altra parte. E' un bel ci andate voi, eh? Speriamo che non ha visto Holocaust alla televisione, sennò sono chezzi. Vabbè, ci vado io, vai. Presù. Vi ha baciato. Ci avete un segno qua. Ah, ma una fissa di ore. Domani mattina vieni da me che ti voglio visitare, perché mi sa che anche gli infermieri diventano pazzi qua dentro. Ma Cavaliere Gedeoni, ma è possibile che lei mi deve rompere sempre i co... Come si chiama di Rome? Gagliazzo. Tutte le rive se le cerca, eh? Agli ordini, arrivederci. Vada, vada. Ma come mi è saltata in mente a me di inventare una corsia dei militari. Roba da pazzi. Ma Ottavio, che cosa stai facendo? Zitta! Sto preparando la trappola. Poi ci metto i pali accuminati. La copro con le frasche e il giaguare non la vede. Arriva, cade dentro e io lo prendo. Ma qui i giaguari non ci stanno. Oh, benedetto pancrazio. Davvero? Ecco così, così. No, fermo, eh. Ecco, vado. Così. Voilà. È venuto bellissimo. Sì, sì. È venuto bellissimo. Mica vero, io i batti non ce l'ho. C'è ragione. È bellissimo. C'è ragione. È bellissimo. Uno. È bellissimo. E due. Oh, è vero, ce l'ho. Ma che fai, Gabrielli? Ti alleni? Per forza. Domenica c'ho l'incontro per il titolo mondiale dei Mossimo. Ma tu mi pare troppo gracilino per fare la box. Non lo vedi? Non lo vedi come sei gracilino? E perché no? E provoci, provoci. E poi vero, vai, poi vero. Ma che ti è successo, Gabrielli? E niente, un piccolo abbassamento di forma. Eccola. Non l'hai presa. È scappata. È scappata. Sì, è scappata. È zanzara. Fermo. Fermo. Non ti muove. Non ti muove. È scappata. È scappata. Che fai? Fermi. Fermi. Fermi a callare. Fermi. Non ti muove, sa. L'ha chiappata. Peppino, la solita zanzarina, eh? Si è volata, Eita. Ho l'impressione che questa zanzarina sia un maschietto. Sì, sì, sì. È un maschietto, sì. Ma, attenta un momentino. Ma vedi? Fermi. Fermi. L'ho fatta sicura. Grazie, sorella. Signor generale, c'è una donna che vuole parlarvi. Araba, eh? Così credo. Deve essere la bella Solomina, nostro agente. Valla a entrare. Signor sì. La bella Solomina. Parola d'ordine. E tu vai via. Signor sì. Ci sono novità? Sì, signor generale. Il nemico sta minando la camionabile che va verso il sile. Oh, perbacco. E in che punto? Amman. Impossibile. Amman è già in nostra emana. No, generele. Io non dicevo amman la città. Amman, amman, che il nemico si ritira, sta minando tutta la strada. Li farò bombardare tutti Altre novità? Sì, finalmente, generale, è arrivata quella famosa medicina Che doveva arrivare da Gerusalemme Che le farà tanto bene, le ossa, le cicatrici Oh, sono contento Oggi i propri mi fanno tanto male Forse deve piovere Oh, 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 piovere Che cos'è? È un'inizione, eccola, la facciamo subita Ma prima fammi vedere il tuo visino d'oro Stia fermo, generale Stia fermo, generale L'aiatolla come io non vuole Non posso, la nostra religione lo vietta Ma stia fermo Sono otto anni che dura sta storia, porca Va bene, va bene, va bene, generale Ha vinto, ha vinto lei, ha vinto lei Stia buona e dà un bel beccio, eh? Stia buona Chiude gli occhi, si fa per dire Ecco Ziacchete Aiaiaia Allora Quella è la sua macchina, è già arrivata Aspettami qua Michele 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 Min... Minchia Poveraccio Con tutta quella ferita sulla schiena si è trascinato fino al capanna Stavo scrivendo un biglietto Dov'è? Fammelo vedere I quadri non ci sono più Sono alla clinica psichiatrica del professor Larussa Li ha presi E chi li ha presi? Non c'è scritto altro E per forza, è morto Si vede che non sapeva fare il suo mestiere Se è morto, peggio per lui Eh no, peggio per me Gli aveva anticipato 25 milioni Oh Eh Fuori la guardia Attiti Fuori dalla macchina E che va gli regge Deoni? Lei mi rompe i timbari così, lo sa? Ah Buongiorno baronessa Buongiorno professore Generale Osequi Come va il servizio segreto? Apri il cancello Senti? E tu non gridi e viva il professore Ma io mica sono matti, io sono il guardiano Io sono il guardiano, mica sono matto Ho capito, non sono matto neanch'io Nessuno dei due è matti Io sono il professore Ma io sono il guardiano E allora siamo a fare, arrivederci Arrivederci È così, no? Io sono il professore e lui è il guardiano Io esco Ciao Buongiorno professore Buongiorno dottore Buongiorno dottore Eh Bene che lei vuol sempre fare il mandrillotto Ma qual è il mandrillotto? Sandarelli? E con quella moglie che ha, così carina E qua come vanno le cose? Bene, è passata una modella per presutti L'ho fatta passare perché dice che ha la sua autorizzazione Sì Fatta male? No, no, è fatto benissimo Ma il presutto non è nocivo, quello è buono, è di Parma Come? È di Parma? Non è di Parma? Non lo so Non ce ne frega niente Ugolini come sta? Ugolini, bene Ma ha rifiutato il tranquillante perché dice Voglio ispezionare le truppe Eh, perché ride Sandarelli Se ha detto che voglio ispezionare le truppe Gli lascio ispezionare, no? Forse qua non è chiaro una cosa, Sandarelli Quelli che sborsano i milioni che pagano questi Possono ispezionare tutto quello che vogliono Chiaro? Chiaro Arrivederla Arrivederla, professore Stia attento con quelle cose lì Ci vada piano, c'è l'infarto, eh Ah, vaffanguosa, andate Ah, i tre Ok Colonello Larussa, come mai, Bianco? Eh, mi sono messo la divisa estiva, ma in generale Noi, niente bianco in deserto Noi abituati a cachi, tutti cachi Io cachi, loro cachi Perché tu non cachi? Eh, una cosa ereditaria, poi le spiegherò Peggio per voi Io avevo mandato a chiamare mio aiutante Perché volevo ispezionare Panzer Divisionen Non è possibile, ma in generale Perché tutte Panzer, sotto Panzer Divisionen Tutti andate a festeggiare Noi aveva vinto la data alla mezza Adesso festeggiamo che te Noi, noi Acqua serve per valorosi soldati Io qui in servo un'altra cosa Vino, vino Bombadieri Bombadieri Sendo rumori di bombadieri Non riesco a distingue dove sono Guardate col binoccolen Ah, ecco Sono bombadieri Colonnello Colonnello, la russa Colonnello A rifugio Sono bombadieri No, no, sono già terretico No, 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 è molto pericoloso No, no, no Ma generale, quello era un rombo finto Tutto, tutto I rombi Non rombi anche lei Pericolo Ah, la capa, madonna Benedetta Giù la testa Ah, se ne sono andate No, 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 attenzione Ora c'è la guerra dei gas Attenzione Che è la scheranza? Mettere mascherano di gas Mettere questo per favore Che schifo C'è stato allarme Tu, tu, tu Che è? Mi lancia fiamma Amore ammazzato Un scemo Ah, il bazooka Grande Germania Aere i nemici caput Ah, questi inglesi non hanno testa E beati loro Venga, venga Ora andiamo a brindare al gruioso Africa Core Oh, era ora Prego Ecco qua No, prego No, dopo di me Lei prima No, non te ne scegli No, veramente C'è un coloro che mi fa male No, no, no Che è questo? Oh, non c'è bisogno di arrivare a queste cesse in generale La prego Bevi Bevi Va bene, va bene Bevo Tanto non è che Boh Ah, in Germania Uno beve e l'altro Scusi, mi fa vedere la pistola? Questa è una vasta pistola Pistola acqua Regalo dei miei figli Ad acqua Sì E come uno stronzo E come si sente a dire Nel bicchiere Io il professore E tu A me Io sono uno stronzo Colonello Italiano in lavativen Che bella ragazza Il pittore ha proprio trovato la cura giusta Buongiorno sorella Buongiorno figliola Senta, io sono stata chiamata So tutto Camera 22, secondo piano Grazie suola Si accomodi Si accomodi Avanti Mi scusi Lei è il professore? Mi manda all'ufficio di collocamento Allora del lavoro sei pratica, suppongo Sì, abbastanza Ho alle spalle più di un anno di attività Di giorno e di notte Meno male Allora con letto c'è confidenza Altro che Ho avuto più di trenta letti per notte Mamma mia E come ce l'hai fatta? Beh Certo è stato un po' faticoso Però io il mio lavoro lo faccio con tanta passione Brava, brava Così se deve fare Brava Spogliate, spogliate su Che te voglio di vincere col pennello mio Che è tanto bello Ma non mi serve il caso Che cosa fa? Aiuto Che cosa è successo? Che cosa è successo? Ah, di questa non si va a sfogliare Ah, fa bene Vai lì Ma dico io Benedetta figliola Ma tu non sai che le modelle si devono sfogliare? E chi se ne frega? Io non sono mica una modella Sono l'infermiera mandata dall'ufficio di collocamento Quale terribile equivoco Che bella raghezza Salve, si accomoda Grazie per il complimento signora Il professore è in visita Si accomodi pure Sa che è simpatico questo si accomodi pure Signorina ma che cosa mi accomodi? Il professore sono io, sa Molto lieta, mi devo la russa Molto piacere Io sono Grazia Mancini L'infermiera mandata dall'ufficio di collocamento Tutte piccole così in famiglia Io scherzo, sa Sono un po' faceto Lei giustamente mi vede congiata così Dici questo deve essere matto Prego, si accomodi Grazie La colpa non è mia, cara signorina La colpa è di Napoleone, lo sa? Napoleone? Lei si intende di psicopatologia medica? Veramente molto poco Beh, avrà il tempo di invarere Le spiego, le spiego in poche parole Dunque, signorina Ogni uomo mortale Per sfuggire all'angoscia quotidiana Che cosa fa? Si medesima in qualche personaggio celebre Penso di aver capito C'è un paziente che crede di essere Napoleone Eh, breve Ma quello lo sai che è un professore di storia dell'arte all'università? Un libro docente, sa? Professor Moretti si chiama Evidentemente deve essere stato bistrattato e maltrattato Tutta una vita dalla moglie e dai figli E finalmente può identificarsi in un condottiero Così comanda tutto e tutti Ma è proprio straordinario È straordinario ma è anche una rottura, signorina mia Perché vedi che cosa mi tocca fare a me? Mi tocca vestirmi da Giuseppina a buona parte Per fare la pundura a Napoleone Perché quello di Popò se lo fa toccare solo dalla moglie Giuseppina Ah, ah, il Popò! Mi scusi, sa? Ma certo è un caso molto buffo Non è che è l'unico, signorina Moscedaian dove lo mette? Rommel Lo sa che io c'ho tre condottieri qua dentro? Davvero? È una scena Poi c'è un altro che tutto il giorno suona la tromba Dice che ha fatto tutte le guerre I zombie ho dovuto istituire un reparto prettamente militare, lo sa? È proprio formidabile Lei è molto simpata, lo sa? Grazie Anche lei è molto, molto... È tanta Pronto? Sono io Sì, tutto ok Mi hanno assunta Incomincio subito Però devo fare il turno di notte E se per te va bene, tanto meglio Ma certo che ne approfitterò Sta tranquillo Ciao Fuori la guardia Troppa Fra di te Niente Lui sempre con la scopa Su, su, su Tutti a palazzo E sai che figura? Datemi un fucile almeno Vuole che l'aiuto a scendere? No, faccio da solo Radimento Viva la France Buonasera, dottore Buonasera, caro Come stai? E io sto bene Io mica sono matto Io sono guardiano Già, non ci avevo pensato Ciao E ti pari Non c'è mai nessuno qua Abbiamo fatto il reparto abbandonati L'assistenza psichiatrica Prospettiva Nuovi orientamenti Buonasera Ah, buonasera Io sono la nuova infermiera Lei è il dottor Santarelli? Già E lei che legge questa roba? Beh, ci provo Dal momento che devo lavorare qui Brava Le sue colleghe di solito non vanno oltre Paperino e Nembo Kid Ma cosa fa con quel gavettino? È stata la trombettiera? Sì, doveva prendere il sonnifero Ah, ed è riuscita a darglielo? Sì Brava Io non ci sono mai riuscito, sa? Gli ho fatto credere che erano delle compresse di sale Sa, come quelle che prendono i Marines Capisco Io veramente sono contrario ad alimentare le manie dei pazienti con le bugie Però se ha funzionato Altro che Ne ha volute quattro di pastiglie Che cosa ha fatto? Ma è pazza Prima di usare un medicamento dovrà sempre, d'ora in poi, sentire il parere del medico Mi dispiace Non lo farò mai più Bene Ora io vado nella mia camera, qui di fronte Se c'è bisogno di me, mi chiami pure Buonanotte Buonanotte Beh, volevo dire È sempre meglio chiedere al medico Però trattandosi di un pescatole stavolta ha fatto bene Notte Buonanotte Chi è? Sto Peppino Ma tu guarda questi figli Grazie Ma ti pare questa l'ora di rientrare? Ma hai fatto alzare dal letto? Mannaggia la miseria Cialurita E mi dispiace Vorrà di che domani esci con me, ti portarcino Ma mica posso uscire io Ah no? Eh no, io mica sono un mazzo Sono il guardiano io Che è successo? Riecca a zanzara Dove sei? Io non vedo niente La chiamata Ammazza, l'ho fatta seccare il primo corpo Ma va fuori ammazza Hello Fred Kiss me How are you? Incazzetta, you Ho inventato il titolo del nostro balletto Fantastico, meraviglioso Professore, io Io Ginger Roger E Fred Astaire Fred Astaire In dance for Oh Acidu Oh yes E che tu Scrazziete maledetti Quante volte ve lo devo dire? Questa deve rimanere chiusa con la camicia di forte Professore, non sa che quella non prende i sedativi Se prima non balla con lei? E ci mettiamo a ballare tutto il giorno? Che è quella? Ma sì Suo? Sì Due milioni e otto Bene, bene E noi dobbiamo provare Domani abbiamo il debutto a Broadway Vai, vai Va bene Hello Fred Yes my darling Ho su quello flight A Flacco Luis Ha, ha, ha Va bene che uno quando è in ballo deve ballare, però Gustavo, venite a prendere Ginger Rogers Il debutto è stato rinviato, sì Scusa Hai fatto bene a venire Non sei ancora impazzita fra di loro? Io mi diverto un sacco fra Rommel, Napoleone e Diane, sono simpaticissimi E sono simpatici pure, dottore? Beh, ce n'è uno che non è male Ah, me lo dice pure, ti piacciono i medici Dimmi, raccontami dei guaggi Il fatto è che io sono solo una cantante, non sono un esperto d'arte, non è facile Ah, ma qui non si tratta di essere un esperto, qua bisogna rintracciare i guaggi di mamma, i guaggi di famiglia, i guaggi antichi Mamma ci teneva tanto E io come un cretino me lo sono fatto a rubare Vabbè, ricordati Grazia che rappresentano un santo e un cardenale, ma sono due caravaggio e valgono una barca di milione Ma sei sicuro che stanno là dentro? Sicurissimo, notizie e informazione sicure Pare che nella clinica ci sia un traffico, tu devi solo osservare e riferirmi I guaggi possono essere in qualsiasi posto, in cantina, tencio un armadio, attaccato al muro, i guaggi antichi se riconoscono, no? Spero di farcela Ma come mai non mi fai entrare nel tuo ufficio? È pieno di fumo, ti fa male la pelle E da quando in qua ti vergogni delle tue donne? Si deve ancora vestire Dimmi un po', come hai fatto a sostituirmi nello spettacolo? Beh, mi sono arrangiato, ma torna presto perché qua il pubblico ti reclama Te li recupererò prestissimo, sarò una 007 perfetta, sta tranquillo Però se cerchi di fregarmi, ti sbagli No, che vai dicendo? Che dici? Tu porti quattro che io le vendo e ce ne andiamo in America e metto su uno spettacolo tutto per te Ci sai fare tu? Perché tu, no? Ciao Ciao E vabbè, va Ottavio? Ma che fai? Ma che è matto, professor? Che stai a fare? La buca per i giaguari? Ma quali i giaguari? I giaguari non ci sono qui E per chi è? Stito Per i leopardi Orca, mi sei, non ci avevo pensato, sono proprio stronzolo io Eh, sì Come? No, dico, non ci aveva pensato Scava, scava Professore, che razza di gente Hanno telefonato i parenti di Moretti Che non hanno intenzione più di pagare I parenti di Napoleone? Proprio loro E perché? Perché dicono che Moretti e Guarite lo vogliono portare via Ma quale guarite? Ma loro questi sono pazzi veri di famiglia sono Ma le pare guarite a lei Napoleone? A me no Solamente che c'è una pendenza In fondo in fondo, quanti ci deve dare? 8 milioni e mezzo Ah, allora bisogna farlo guarire di corsa a questo O guarire tra i 4 giorni Oppure usare la psicoterapia farmacoblanda Cioè voglio dire facendogli capire a piccole dosi che la vita è bella Piedi di cose belle da comprare O lui ci dà i soldi e ci spezza la noce a capocollo e può morire direttamente Eh? Vedremo La nuova inverniera è già arrivata? No, arriva le 8 Perché? Stavo pensando Vabbè, lascia fare a me Professore, ma si è fatto prendere un'altra volta per i piedi Ah, si è fatta prendere un'altra volta per i... Quando è alto quest'albero? Ecco la nuova infermiere che starà con noi È bella Carina, eh? È più bella di Maria Luisa d'Austria Io quasi quasi divorzio da Giuseppina e sposo lei Napoleone, Maria Luisa è morta 200 anni fa Ma non mi faccio ricominciare sempre da capo, la prego, su Deve essere pazzo Sentite Sentite, adesso vi dimostro perché fare una puntura è un gioco veramente da bambino Basta tirare un lungo sospiro e rilassarsi Quella roba dell'altro mondo E lei ha consentito così? E che cosa potevo dire? Me l'ha chiesto il professore Ma ha fatto spettacolo davanti a quei tre Beh, non vedo che c'è di male In fondo è stato un esperimento E lo dice così, tranquilla, quasi ci ride su Io vorrei sapere perché ne sembra così contenta Beh, mi fa piacere vedere che lei se la prende tanto per me È molto gentile da parte sua Ma non dica sciocchezze Io mi occupo soltanto dei miei pazienti Ma lo sa che un esperimento del genere potrebbe sconvolgere le loro menti già malate? Lei è un'incosciente, ecco che cos'è Non hai il diritto di parlarmi così Che cosa? Io ho il dovere di farlo Buonanotte Burina Non vedo un dubbio Via, via Avanti i miei prodi Palombari, ciclisti e fucilieri e bombardieri Avanti Ma dove andate? Andiamo a liberare quella ragazza Quel pazzo la tiene prigioniera Ma quel professore crede di essere un professore Invece è un pazzo Un pazzo? Io lo bombardo Non sono stato io E allora chi è stato? Suor Fulgenzia, riconosco la voce È qui Eccola, è qui Buttino a non vedere un tubo Ah, eccola La riconosco È lei Ecco, ecco Eh, no Stavolta mi hai stupato La prossima volta chiudo il cangello Non ti faccio entrare, capito? Ari, eccola Eh, no, bello È che è uno che c'ha paura nella zanzara E poi mi ha fatto pure scappare Guardi che io non sono, Matt Io sono il guardiano Se tu mi dà uno schiaffio Ti do una bastonata Che ti spacco la testa, hai capito? Ma stai a fa' lunga per la zanzara Manco fosse in aeroplano Oh, ma che sei matto? Ah, ancora non capisci Sono il guardiano C'è tua Oddio, si ammazzano Basta, fermatevi Che diavolo sta succedendo qui Fermo E voi che fate in questa stanza? Questo individuo ha schiappeggiato l'imperatore e me Eppure a mia Deve essere una spia di Arafatto Non è vero È colpa della zanzara La zanzara Se ci provi ti do un cazzotto sul naso, sai? È schiappata E voi, tornate subito nelle vostre stanze Fuori 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 Via Fuori Via, a letto nelle vostre stanze Via, via E non va accostata più, eh Laian, a letto Che cosa è successo, dottore? Succede che qui i pazienti se ne vanno in giro di notte Perché l'infermiera addetta alla sorveglianza Non è al suo posto Mi dispiace, ma ero in una stanza Capisco, in certi casi ci vuole tempo, no? Cosa intende dire? Forse ripeteva l'esperimento con qualcuno Mostrandogli il popò Che c'è? Niente, Peppino, vattene a letto Che abbiamo trovato la zanzara Ah, sì, grazie Ma l'è vero, mi è scappata? Eccola Ottavio Chi è? Ah, il professore Ciao Buongiorno Che stai scavando, una bug per i jaguari? Ma quali i jaguari? I jaguari non ci sono, professore Per i leopardi? Ma quali i leopardi, professore? I leopardi non ci sono, ma che pazzo? I pazzo non io, no? Sì Che scavi? Credo di aver individuato un'antica necropoli etrusco-latino-greco-bizantinica risalente al 2138 avanti Cristo O 2038 Che cazzo ne so io? Come lo sa? Stai ferma con la palindasca Ti spezzo il bicipito e ti spezzo io È pazzo È pazzo Pazzo Sì, è pazzo Pazzo, sì, pazzo No, pazzo, sì, sì No, pazzo, sì Grazie, le volevo fare una domanda Dica, professore Però non so da dove cominciare, ecco È una domanda puramente scientifica Lei può rispondere o non può rispondere? Volevo chiederle Lei ha sesso, come va? Come? Sì, insomma, lei Quando fa l'amore Che cosa fa? Lavora l'uncinetto? L'uncinetto? No, la lana Non lavora mica la lana, no? No Legge i libri gialli? Beh, no Quindi lei, voglio dire Quando fa l'amore è completamente normale Che è frigida? Ma io credo di essere normale Crede o lo è? No, mi dica la verità Perché questo è un problema Che voglio risolvere È frigida? No, senz'altro no Grazie, signorina Lei non sa che cosa Mi ha tolto dal cuore Proprio un peso Possiamo darci del tu? Grazie, grazie Di grazia stasera che fa? Ehi, che vuole che faccia Andrò a letto Ecco, appunto Se si potesse congordare In sieno la cosa, no Non mancherà l'occasione Grazie Vieni, vieni Andiamo all'alena Gesù Mi scusi Camina Che sei venuto a prendere Biancaneve? Gli altri sei, dove stanno? Passi dal reparto ginecologia Disgraziato Antimilitarista Ma ti ammazzo Se è più la mala Te sparatemi Non ti permetterti Non ti sparatemi Non ti sparatemi Ehi, che è successo qua? Cavaliere Gedeoni Cavaliere Galeazzole È una rottura continua di scatole Venga su Sembrate due bambini Sembrate Che ha cominciato? La colpa è stata sua Mi ha dato un cazzotto in faccia E io l'ho pulito militarmente Per forza che gli ho dato un cazzotto in faccia Ma ha pisciato nella buca Io? E sai boh, non va niente Se ha pisciato nella buca Si pulirà la buca, va bene? Ma che pulire pulire? La trincea non si pulisce In trincea si combatte Io ti ammazzo Sì, ti ammazzo Oh, che fai, di maledetto Aia, aia, aia Tensi vostri, mettetemi in vila Battaglioni, atti di Pronti, sinistri Vedi, adesso Precciate la tocchiazza Andate a fare inculcute tu Ah, ma una fissazione la volta Maledetto Appese alle pareti non ci sono Che abbia nascosto le tele Ma che? Qui dentro non c'è niente Cerchiamo ancora Niente E pensare che sembrava tanto innocua Ma dove diavolo li avranno nascosti? Che aspetta? Va bene, signorina Sì, professore Le volevo parlare La musica inizia a giocare Do my body start to sway There's a rhythm in the air I can feel it everywhere Insomma, la ragazza non ha combinato ancora niente Ma si sta dando tanto da fare Purtroppo non è facile Scusa Sì? Portami un ferne a branca e un punto in messa Senza ghiaccio Sovica Everybody's telling me That I come from a crazy generation Say I shouldn't run around And never really give an explanation I'll take my chance Go out and dance Go out and dance Go out and dance Baby, I love it Wish that they could understand The feeling that I get when I'm in motion Dancing how my troubles feel I'm letting loose my every crazy road Sì, almeno riuscito a sapere Chi ha ucciso Michele Pare sia stato un suo vecchio socio in affare Ma l'hanno arrestato Per fortuna la cosa non ci riguarda Quei pirla Prima di morire ha lasciato scritto Che i quadri non si trovavano più a Villa Paradiso Ma non ha fatto in tempo a scrivere chi ce li ha Eh, lo so, lo so, questo lo so Ma forse non sai che chi li ha presi potrebbe avere a che fare con Villa Paradiso Eva, sei formidabile Questa è una cosa che bisogna appurare Adesso però è meglio che te la file Quella se capisce il gioco, meh, finisce a schifio D'accordo Ma ricordati che io sono gelosa Niente trucchi Gesù, non te fede di me Come prendo i quadri scappiamo insieme Sull'anima da mamma Tienilo a mente Con me l'anima di mamma non funziona Ti saluto Grazie a tutti Senti Tu devi cercare di scoprire se qualcuno alla clinica ha avuto a che fare con Villa Paradiso Una villa antica abitata da nobili E che c'entra? Beh, guaggia da mamma Stavano là quando sono scomparsi Ah sì? Villa Paradiso Che bel nome Uè, ciao Questa è la posta La vedo C'è anche un pacchetto dalla cina per il professore Per te non c'è niente E che mi scrive a me? Io mica sono un mazzo, sono un guardiano Ciao E ciao Suora? Suor Fulgenzia? Professore, professore amabile Senta, le volevo chiedere una cortesia Scusi Lei ha fatto la missionaria? 15 anni, 15 anni figliole Mi ricordo E' stata buona in Cina? In Cina, un po' dappertutto Allora lo sa il cinese? Beh, insomma, ha parlato pochino ma ha scritto meglio Ecco, allora, legga, legga Voglio sapere una medicina nuova Come funzione Eh, fresco è usarlo mezz'ora prima Brutto sporcaccione Ah si? Allora, va davanti, non ti preoccupi Vado avanti, legga tutto Pure, eh Indecente, pesente, scostumato Villano, vezziosone Eh, ma Fulgenzia Non reagire che ti spezzo Lo so sempre ti spezzo io, sai Se ogni medicina che leggi Tu mi dò uno schiaffo Mi fai una faccia così, mi fai Vai via Va bene, risolveremo Cazzo di secchio Se viene davanti lo metti tu, questo coso Ma guardate qua che avete combinato E niente, sto facendo un po' di pulizia, professore E perché le pulizie? E perché? Perché arrivi il cardinale Vitola Ha telefonato e può venire da un momento all'altro a farci visita Che c'entra il cardinale Vitola? Hanno accettato il preventivo che voi avete fatto Per la richiesta di sovvenzione per la piscina Ah, per la piscina, finalmente Quando hanno stanzieto? 420 milioni E quanto costa la piscina? 24 milioni Orca puttani, sono 4 milioni di ispari Non va niente, avvisami quando viene il cardinale E fai tutte le pulizie Sì signore, guarda il pignolo Ma questo secchio non te lo puoi mettere One, two, three, four One, two, three, four One, two, three, four One, Fred Ecco, Carla Freccia Non c'ho tempo con adesso oggi, devo telefonare Oh, Fred Ginger, un'altra volta e ti prego, su No, dobbiamo fare la prova generale Domani abbiamo la prima Broadway E debuttiamo dopo domani Ecco Che c'è? Il danaro per lo spettacolo Ah, 6 milioni E poco No, no, va benissimo Allora si debutta Bravo Bello Pronti? Sì Voilà Oh, yes Ah Oh 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 Gustavo Viete a perdere Gigi e Roger che credo che si è spezzata tutto Ah ho capito E passami mia moglie Che fa aspetta Sì sì aspetta un lì Ti spiego Sì Sì perché è arrivato finalmente quel farmaco cinese che aspettavo Quello di Magrande Oh che bello come sono contenta Sarà efficace Oh strecchetto lì Anzi guarda che hai scritto molto chiaramente Che tu devi prenderne due mezz'ora prima che arrivo io Ma scusa tu che c'entri? Ma come che c'entro? Perché mezz'ora prima dei pasti vuol dire che mezz'ora prima che arrivo io no? Va bene le prenderò Le mando subito a casa eh Ciao Buonasera professore Buonasera Beh che cavolo fai qua tu? Come che cavolo faccio qui? Ho chiamato l'ascensore perché devo andare da voi al quinto piano Non c'ho la cassetta qui E allora devi andare da me e vai a piedi no? Come professore ma cinque piene sono cinque piene caro? Eh meglio dimagrisci dai Va bene professore con permesso Con permesso Eh che cacchetti Che è successo adesso? Poca potere che è successo adesso? Poca adesso Portiere? Oh portiere di notte? Quale non si vede niente? È bloccato tutto Chi è? Il vinaglio Mi scusi signora per il litardo ma all'oscuro glieli appoggio qui Amore T'aspettavo A me? Michele? Michele manedetto figlio di puttana? Sono io il professor Larusso Sono bloccato in ascensore Oddio Veronica avrà già preso le bille di eccitanti Sarà ingrifata io sto qua bloccato Veronica? Veronica? Rispondi mi senti? E ricordi che non ti lascia la gente 28 minuti bloccati in ascensore Io sono l'amministratore del palazzo Chezzo Ah sei ancora qua tu? Sì Ti ha trattato bene mia moglie? Che? Quando ti ha? Tre Tre Ah ah Beh e vai Che fai qua? Con permesso professore Con Eh vaffangulo Adesso non posso professore C'ho da fare Che paura Ah sei qua amore Quel che ho passato in ascensore 28 minuti bloccato Guarda come sono sudetto Mi sono arrappato come un pinguino africano Cos faremo adesso? Ti prego non dirmi nulla Io sono molto stanca Me ne vado a dormire Come? Come sei stanca? Porche si questa cosa Io sono venuto Ah ah Miglio di puttana castreto E meno male che mia moglie Da solo 300 lire di mance Ah ciao Gedeoni Che fai? Non lo vedi? Sono di guardia A che cosa? A tutto Se hai bisogno Chiamami Sono a tua disposizione Certo Certo Scusami un attimo Prego prego Mi ha chiamato Ugolini Affanti Non mi lascia Non mi lascia Ma che fa? Vuole uccidermi Io credevo che eravamo amici Sì No In tanti anni di guerra Ho visto molte infermiere Tutte racchione Fetuse Per racchione Lei non è una vera infermiera No No Lei è una piacevole agente del nemico Ma come ha fatto a capirlo? Io furbo Io volpe del deserto E io farò lei fucilare Oh no La prego Lei è così buono Oh no Io no buono Tu buona Anzi Io voglio proporre a te un baratto Sai che facciamo? Io ti salvo vita Se tu mi dai un'ora di amore Eh no 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 E questo è impossibile Niente E' impossibile Per Fet Maresciallo Rommel Oh com'è carina Scommetto che ha d'acqua Sì come fate a indovinare Me la regala? Certo Tanto me ne porteranno un'altra Grazie Adesso pensiamo a cose più importanti Lascia questa pistola Ti voglio Ti desidero Non resisto più Nel tascapane di ogni soldato C'è il bastone di Maresciallo No Oh 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 General Hai Traditore Io ti farò fucilare Ed io ti farò arrestare Ma tu non sai chi sono io Io sono il Feld Maresciallo Rommel Ammazza 240 Porca puttana Qua mi scoppia tutto Mi scoppia Sistema neurovegetativo a pezzi Un momento Avanti Voleva a me professore Sì grazie grazie Si accomodi prego Grazie Grazie Bene Immagino che vorrà parlarmi di quello che è successo con Rommel Mi creda non è stata colpa mia È successo tutto così all'improvviso Ma che ce ne frega noi di Golini Pensiamo a noi Quelli sono ammaletti Noi siamo vivi vegeti e ingrifetti D'altronde lei è bella e quando una è bella Va incontro a questi ingrifamenti Scusi Ci possiamo dare da tu grazie Certo La ringrazio Lei è molto comprensivo È buono come Come il pene Come un padre Ah grazie grazie Io volevo continuare Quel discorso che abbiamo lasciato interrotto prima che arrivasse la disgraziata della sua Ah mi sembrava la macchina di mia moglie Invece è quella Santo Ronzo di Barile C'è mia moglie nel cortile Come? Eh niente C'è un parente di una maledza Si chiama Ronzo del cortile E senti Mi è venuta una bella idea Hai visto che sole che c'è fuori Facciamo un bagno? Magari Allora senti Alzi Facciamo una cosa Ci vediamo fra mezz'ora al brigandino di Barletti Che arriva prima Aspetta Volentieri Ma non diranno niente poi gli altri Che devono dire? Chi comanda qua dentro? Io credevo sua fulgenza Appunto Non devi far vedere la sua fulgenza Sennò ci becchiamo l'indulgenza Ciao Al mare Al mare Ciao Mondolino Tu sei mio Mi scusi sorella Il professore? Eh nè Forse di là Forse di qua Non ti sa da dove sta Non capisco C'era solo di clausura Arrivederci Ah C'era la porta da cappella una volta Ammazza che cappelletto che ho preso Avanti Salve professore Salve Dove mi posso cambiare? Eh di là Ah grazie Mandolino Quando mi scatto Tu Sorpresa Becca questa e porta a cappella Permesso? Io devo scavare qui Ma che cavolo le ho fatte entrare qua voi due? Ma come lo ho messo? Io non lo scavare Dammi questa pala che vado a fare una bella trincea Ma qual è la trincea? Ma che sei natta? Mi dammi la palla Signorina perché sei portato dietro questi due cataplasmi qua? Ho pensato che un po' di sole avrebbe fatto bene anche a loro Mi hanno promesso che saranno buoni Ma che buoni? Quelli sono due pazzi Questa è mia e guai chi la tocca Ma di essa va? La mare è mia Ridammela Non è mia Siete buoni Io ho fatto uscire però esigo da voi Ordine, disciplina e dignità Ma per la chiamata Io vi dici che colpidollo della spina dorsiera Tutte in tua maledetti Vedo un pazzotto da l'occhio Sparito Ma che fa? Stavo salutando il mandolino Signorino lei è uno psicofarmaco Con quel mandolino riesce Non avete mai visto un bersagliere? Che guardate? Senta signorina E se sapevo che finiva così Signorina mia Allora preferivo rimanere in griglia Che a lavorare Ma no professore Un po' d'aria fa bene anche a lei Premare Premare Uno Due Uno Due Senta Gedeoni Lei non può rompere sempre la monotonia Vada sulla spiaggia Su Ho preferito portarlo Altrimenti litigavano Adesso rema tu Gedeoni No no Io sono truppo da sbarco Io non remo Io sono Si è uno stranzolo Gedeoni Gedeoni va bene E proprio me le tiri di bocca le parole Arrivederle io me ne vado Vado in acqua Ci vediamo dopo Faccio lo stile affoghe Ciao Adesso noi due che cosa facciamo? Ma non devi fare lo sbarco E allora forza Rema No no Sai che cosa ti dico? Ci ho ripensato Non sbarco più Non remo più Sai cosa facciamo? No Un bel ragazzino Un ragazzino? Pensa Pensa Se ne facciamo 30 Finalmente potrò comandare Un bel plotone E sai io che cosa ti dico? No no Ciao Bella giornata se non si guastra Si bella Oh professore ma che fa? Sto stronzeggendo Scusi Ma che dice questa amica E' una trappola bistro Non si è una trappola Per i tartarugone Ma perché siete venuti qua? Perché? Quale tartarug? Dove sta questa tartarug? Qui è pieno Laggiù ce n'è un nido Venga a vedere Venga Venga professore Stiamo giochendo Stiamo giochendo E non corre Non te ne mi pesca tutto Ecco Si metta lì Si metta lì Vede? Questo è un nido Guardi come si muovono Guardi Scusi guardi non c'entrò niente Tenevo la palla Facevo il palla E tu allora Vaci dietro Starmogliaccia Ma che succede? Ottavio Due contro uno Ma che se le macchia? Ma che ve conosce? Io l'ammazzo Ammazzo ma io ammazzo Andiamo noi Andiamo Aspetta un momento E tartaruga Stare a far sapenare E poi Andiamo E io sono tartaruga Lo sai che ti dico Va a morire ammazzato Non è libera Vero? Professore Ma lei cosa fa qui? Che fa adesso? Mi date lei Ci davamo del Del tu Sto cercando Di continuare Quel discorso Che avevamo lasciato In derrotta Lei sta scherzando Esca immediatamente Sì ma senza alterarsi Sa perché non è proprio Il chezzo Io sono un professore Sono una persona per bene Un genere di luomo Chezzo E poi non ho capito Perché ieri da me Eri tutta nutola Tutta frufru Io credevo che volevi fare Un certo Ad assembramento Con me Sì È vero Vede Io stavo cercando I quadri Stavo cercando Di fare un esperimento Un Un fatto mio Personale E beh vuoi fare l'esperimento Proprio sopra di me E scusa tanto Allora lo fai a posto Ma che mai prese Per un vecchio ringoglio Che ti fa da cavia Ma lei non è affatto Vecchio professore Non dica queste cose Ma ringoglio Mi creda Dovrete chiamarla Villa Paradiso Eh lo so Ma Villa Paradiso Già esiste eh Quella è una villa vera È bellissima Un sogno Davvero? Eh sa chi ci abitava Ladello? Peppino il pittore pazzo Lo scorfano Quella appartiene A una famiglia Di scorfani nobilissimi Però Che è? Mi sta sorgendo Anche a me Mi sta sorgendo Un'idea La settimente Mia moglie ha preso le pillole Sono quasi alle otto Io sono in crisi Unasera professore Unasera Ho chiamato l'ascensore Per andare su da voi Ma se mi disturbo Posso andare anche a piedi Eh no grazie Vado a piedi Preferisco fare quattro passi Va bene Grazie professore Con permesso professore Professore Chi è? Professore Dio Ti ringrazio Ti ringrazio Che c'è? Ma è il cielo È il cielo che la manda Lei viene dal cielo Viene dalla clinica Eramente tardi Devo andare Mia moglie sta male Eh? Mia moglie sta male Sta male Eh lo so Chiamato un medico Io non giochiamo Per cortesia Appunto stavo uscendo A cercare un medico Ma non è possibile È arrivato lei professore Lo prego Deve venire a visitare Mia moglie Ma stia ferma Con le malmiagite Prima del luspo Non combino niente Che c'è? Mia moglie È morta No Allora chiamate un caro culo Oh porca puttana Ma mi scade il termine Poi si approccia Tutto La venga a vedere La venga a vedere La venga a vedere La venga a vedere La moglie come No tesoro Sei tu Amore Ancora Ma scherzo Sta arrivando il professore No Ecco Cinque gocce Tre volte al giorno Tre supposti Quattro volte al giorno Ecco Tutto faccio Professore Quanto le devo Niente No no come niente Professore Non posso premere Permetta Non voglio niente Arrivederci Professore Scusi le gocce Come le deve Nel neso Dentro il neso Professore Le pillole Per bocca Professore Le supposte Se le mette nel culo Lei è sua moglie Due volte al giorno Non è un medico È un sano Veronica Veronica dove sei Non farla pudic Ti vergogno Ma no Cosa faremo adesso Dove sei Sei nascosta Veronica Michele Michele Che hai visto La moglie venire giù Ah amore Ma dove te ricacce Oddio Che su Sono stanca Tanto tanto stanca Quel farmaco L'hai preso Quante volte l'hai preso E tre volte Fa melo Quello E tre volte È pesante Che è successo È arrivato Lo stronzo Del vinaio Beato lui Che non ha problemi Sessuali Con permesso Quello è castretto Maledato Avanti Plus vite Presto Non ci allontaniamo troppo Non vorrei che il cavallo Si stancasse Ma chi lui Porce la misuara Ricordati Fido stagliere Che dopo il passaggio Della beresina Questo nobile destriero Ha camminato Per 50-60 km Il giorno Lui Ma no io 50-60 km Con me in groppa Nella tormenta di neve Ma ora devo guardare La situazione Il nemico potrebbe essere Appostato qui attorno Saliamo la china La china La china La china Eccoli Chi? Gli austriaci Attaccano sul fianco Avanti la guardia imperiale Cazzo quanti so Via Ferma Fermati Fermati Tapoleo Fermo Fermati Fermati Avanti Avanti Un corridore Un corridore io No se uno stronzolo Quando vedi che l'imberatore corre Lo devi frenare Sennò quello fa stronzate Ah Finalmente si è addormentato Gli ho dato un sedativo Poi ho anche medicato il pastore Meno male che non era un pastore tedesco Se no ci mozzicava tutti quanti Buona questa Buona questo un cavolo Con tutti i guai che abbiamo Ci mettiamo a fare lo spirito Sandarelli Allora si vuole anche scherzare Professore E no qua andiamo in galera tutti quanti E si chiude sai Senta Fermoretti Vogliamo provare uno shock chimico Ma quale shock chimico Vi ho detto mille volte Che questo termine non mi piace Shock chimico Un termine da usare Nelle cliniche psichiatriche Qui pazzi non ce ne sono Ah no? No C'è solo gente che passeggia E paga bene Oh Sede Napoleone Ah Gustavo Arrivederci Arrivederci Se si dovesse verificare di nuovo Un caso del genere Tu chiama l'ospedale di Foggia Ci mette la camicia di forza E lo fa ricoverare Tanto quel che ce ne fa Il manco paga E va bene come volete Se il cacacazzo di Sandarelli Si mette un'altra volta in mezzo Tu ti devi dire Mi ha detto il professor Larousse Papele papele Che ci pensa tutto io Chiero? Chiero Oh No non è che tu devi dire chiero Tu devi dire Mi ha detto il professor Larousse Papele papele Che ci pensa tutto io Chiero? Chiero Senti Gustavo Noi due non ci capiamo Mi sa tanto che uno di noi due è pazzi Io no Ladies and gentlemen Ginger Rogers E Fred Astaire In dance floor Dance floor Oh yes Anche il primario Muore ammazzetto Muore quasi signora Eminenza ma Da dove è sbucchetto lei Eminenza Vitola Io provevo con Ginger Rogers Il balletto che dobbiamo Che quello è una pazza E noi dovremmo dare 420 milioni Per carità 420 milioni E dopo le da più Non mi da più Niente Maledetta me Per 6 milioni Mi perdo 420 E che Ah Oh Fredda Buonasera signorina Buonasera Grazie Oh Che traffico Chi era quella che è uscita adesso È l'infermiera nuova Perché Ma come Invece di entrare esce Dove è andata E che ne so Io mica sono matto io Io sono il guandiano Io non ci capisco più niente Sembra di stare in un manicomio Qui E ciao Napoleone Ciao Oh ma tu sei pure ventrilogo Oh ma tu sei pure stronzo Oh professore Che porto là dentro Dove porta Napoleone Fatti i cavoli tuoi Che cosa porti E se non mi dice dove porta Napoleone Oh Io sono il professore Chi comanda qua dentro Sono Fuggenza E io per questo che ho nascosto qua Che c'è Chi c'è là Ciao È carina Senti Peppino Sì Mi fai dare una pennellata pure a me Ma ora mi dice dove lo porta Sì Confidenza per confidenza Scusi signorina Io gli ho fatto un'iniezione E si è addormentato Lo chiudono lo sgabuzzino Mi metto io a dormire a posto suo Quando passa l'inverniera Quello c'è il tocco De classe Buonanotte Su Fulgenzia Ah Gustavo Ma come me è ancora qui Ancora di guardia sei No ho scambiato il turno con grazie Perché era stanca Poverina Ma sì E il dottor Santarello Non è arrivato No è quello che sta studiando Per gli esami Davvero Speriamo che qui non succeda niente No 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 madre Non può succedere niente Sì Meno male Perché ho messo il sonnifero Nell'acqua minerale a tutti quanti Così dormono E mi fanno dormire pure a me Ah guardi Mi capisco sei E' legge Napoleone di mortecce suo Ma dove Come sono arrapeto Come un chirostro Un carico Che caldo che fa qua Fammi rimbrescare Mi sento proprio Adesso entra Buongiorno Come si napoleon Come sa va Come sa va Come sa va E di spaz Che ci faccio Mi sento un ragazzo Meglio così Ce l'abbiamo fatta Scusami carina Qui c'entra la mamma ora La mamma ti vorrà sicuramente ringraziare le persone No perché questi quadri appartengono a Peppino De Tappis Un pittore pazzo che sta nella clinica del professor Larussa E che li aveva a casa sua da più di cento anni Quindi tu sei un ladro Un truffatore Un truffatore E un figlio di migliorta Che mi ha coinvolto in un traffico poco pulito Micca chi sta capace Oh io te smennati Ho capito Minaccia la signorina Come si permette Ma scalzone Ma che schiaffio vuole lei Si può sapere Ma io ti riempio di schiaffi Ma che riesco Hai capito Ma scalzone Ma io ti riempio di schiaffi Mettetela Smettetela Scusate Un pezzo Scappiamo I quadri sono quelli veri Un po' d'acqua Un po' d'acqua Oddio mamma No non si preoccupi E' acqua Come si sente? Benino E allora che aspettiamo? Dobbiamo inseguirli Quei quadri vagono milioni Quali quadri? Venga Andiamo Andiamo Che schiaffio vuole lei Che schiaffio vuole lei Che madolino Fammi suonare Fammi suonare Ma sono prigioniero Prigioniero Assassin Disgraciat Uvri Aprite Aprite la porta Sono stati gli inglesi Sono stati gli inglesi Sempre loro Invidi bugiardi senza parola Sono l'imperatore Aiuto 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 liberatemi Ma chi grida Mi sono svegliata Mi sono svegliata di soprastalto E sorella è Napoleone Non gli ha fatto affetto il sonnifero Sono il vostro imperatore Qui Ma tu poveretto Non vai da lui No 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 Io sono d'accordo col professore Io telefono all'ospedale Traditori Vigliatti Assassini Ma io vi ammazzano tutti Oh Mattevo sta zitto So dura che stai a strillare Ma è impaurito pure la donna mia E tu chi sei Così piccolo Sei venuto a uccidermi Ma Ma dimmi Il mio impero finirà nel sangue No Si seguita così Finisce una merda Ah Merda Stronzo No dico merda Ma allora tu Tu sei cambron Si Cambron Il mio federe generale Si Cambron Cambron Sei venuto qui a liberarmi La zanzara Dov'è che sta? Secondo piano stanza 23 Volete che vi accompagni? No è meglio di no Perché se vede qualcuno che conosce è peggio Lo sapete Va bene grazie E che guai che ha giù passata 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 Grazie Fammi la grazia Grazie Appropingo a te E' una madolina nella notte Oh madonna Penedetto Mi sembra la capa pesante pesante Ah Veronica Si Che mi cambi I camice? Si amore Salve Salve Molto liete Professor La Russa Buonasera Giovanna Agnelli Ah come sta sua sorella Vestita sembra la marinara Oh ma che fai Mi avete messo la camicia in forza me Io stavo dormendo Oh Io sono il professor La Russa E tu che cose mi guardi come un pazzo Pazzo Eccoli laggiù Dove? Sono loro vede Le avevo detto che vanno all'aeroporto Ha visto? Avevano avuto un'idea geniale Così camuffati sembravano quadri senza valore Ora che li hai gonciate in questa maniera All'aeroporto come faremo con i tuoi canieri? No In qualche modo ci riusciremo Senti nuovi sei morto Dottore si faccia dare l'artiglieria Eh? Eh si Adesso vado a controllare la signora Sì Tutto a posto Stai attento perché tu con le armi non è che sei pratica E nemmeno tu Cretino Grazie Ma cosa fa? Tra poche ore di visita i valenti sono già fuori Mi dispiace Ma ora che l'incidente è chiuso non ho più niente da fare qui Se ne vuole andare? Non tornerà mica a ballare? Non lo so Ma sì Credo di sì E che altro potrei fare? Ormai sono abituata così Mi piace viaggiare Cantare Ballare Guardi che noi siamo tutti felici di averla qui alla clinica A fare che? L'infermiera? Certamente Guardi le prometto che nessuno la caccerà via È strano che sia proprio lei a dirlo Sì Capisco che cosa intende Io ultimamente mi sono comportato un po' severamente con lei Però mi creda io Ma no Non ha capito Io non ce l'ho con lei Ce l'ho con me stessa Perché ho ingannato tutti voi Ma chi se ne frega di quello che è stato? Grazie Non capisce che io le voglio bene Sono innamorato come un pazzo Anche lei? No Non mi confonda con gli altri La prego E come faccio a confonderla? Lei è il solo carino qui dentro No Non scherzi Gli altri la desiderano soltanto Ti desiderano soltanto Ti vogliono Capisci? E questo mi fa ingelosire come una bestia Ti sei innamorato veramente? Ma grazie Non vuoi proprio capire Allora mi vuoi? Ma certo che ti voglio Per i quadri rubati Lei e la signorina Dovranno solo ripetere al giudice Quello che abbiamo verbalizzato al comando Una pura formalità D'accordo Si accomodi Grazie Quei due ormai sono sistemati Piuttosto ho saputo del vostro primario Eh sì Dopo l'attacco di psicosi delirante acuta I tre elettroshock subiti all'ospedale L'hanno proprio finito di rovinare Ma in definitiva che ha? È un caso di regressione totale Sfugge l'angoscia Rifugiandosi nell'infanzia Mi scusi Quel piccolo mostriciattolo fedain E un suo figliastro per caso? No 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 Quello è Eugenio Il figlio di Giuseppina Questo invece È il figlio di Maria Luisa È il re di Roma Leglion Dammi il palloncino Lascia Scemo Scemo Cha-cha-cha-cha Cha-cha-cha Cha-cha-cha-cha No No